Significa che quelli che cantano, di solito sono grossi, tatuati, cattivissimi, che fanno e in quel momento lì tutti gli altri fanno così. A voi un po' qua che potete riuscire, però è una figata da vedere qua. Facciamo una prova. Fai il riff quello figo, quello della canzone, poi loro fanno e io faccio quello grosso tatuato e via. E' un riff. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 5! 2, 4! 2, 4! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.